Colpo Atletico Madrid, arriva a tutti i dettagli. Roma nel mercato dei parametri l'Atletico Madrid continua a muoversi più rapidamente di tutti, il club spagnolo è infatti l'accordo con Caglarso Juncu. 26 anni, difensore turco dell'Achester. Il giocatore non ha rinnovato con gli inglesi e dalla prossima stagione giocherà in Liga. Per lui contratto di 5 anni, con scadenza nel 2028, e uno stipendio netto da 5 milioni di euro. Il pre-accordo è stato già siglato a gennaio e negli ultimi giorni di mercato c'era stato anche un tentativo. Alla luce di quella intesa, di anticipare l'arrivo del turco a Madrid di qualche mese riconoscendo un indennizzo a Lichester. Non se n'è fatto nulla e dunque il primo luglio il cambio di maglia avverrà gratis.